ehi mamma guarda che voglio sentire la mamma è lì wow Franci qua dentro buttavano il carbone e così usciva il fuoco si creava il vapore e il freno con la pressione poteva andare avanti eh però non ne hai più no, devi stare fermo Franci Franci da qui dire il carbone eh Franci 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 Grazie. 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 Grazie.